Musica Buonasera, bentrovati ad ora TG con le alte temperature di questi giorni è già scattato, l'allarme incendi in Sicilia, diversi quelli che si sono registrati quest'oggi in provincia di Catania ed intanto un rogo di vaste dimensioni è interessato, proprio questo pomeriggio l'area dell'ex Siace, ancora quell'area sul litorale ionico etneo a fiume freddo di Sicilia, sul posto la forestale ed i vigili del fuoco, sentiamo tutti i particolari. Brucia ancora l'area boschiva a pochi passi dalla spiaggia di Marina di Cottone a fiume freddo di Sicilia al confine tra le province di Catania e Messina, una zona non nuova ai roghi, spesso legati allo stato dei luoghi, diversi gli incendi che negli anni hanno aggredito, in particolare l'area dell'ex cartiera Siace, dismessa nell'87, l'ennesimo di vaste dimensioni questo pomeriggio, complici le temperature roventi ma sulle cause sono in corso accertamenti, l'allarme è scattato poco prima delle 14.30 con una chiamata al 115, sul posto i vigili del fuoco, del distaccamento e di riposto e gli uomini del corpo forestale del servizio antincendio boschivo, l'intervento per circoscrivere e spegnere le alte fiamme nell'area in stato di abbandono evitando il peggio si è protratto per più di due ore, sono stati impiegati anche mezzi navali canader della regione siciliana che hanno attinto l'acqua dal mare a pochi metri. Dell'area ex Siace, al centro di una lunga storia e vicende giudiziarie sulla presenza di Amianto, si era discusso lo scorso febbraio ad un tavolo regionale, amori importanti per la bonifica della riserva naturale ma ad oggi è tutto fermo, una delle giornate più complicate per i vigili del fuoco in questa estate appena cominciata a centralino in tilt nella sala operativa del comando provinciale. Diversi gli incendi concentrati nelle zone boschive di Paternò, Adrano, Caltagirone e Biancavilla, alcuni dei quali hanno lambito le abitazioni. Pochi giorni fa un vertice della prefettura di Catania per stabilire le linee di intervento antincendio per la stagione più calda. Riprendono gli sbarchi massa in Sicilia, la nave Mare Ioneo-Mediterranea semi-humans davanti al porto di Augusta ha segnato ieri del centro di coordinamento del soccorso marittimo della Guardia Costiera. A bordo ci sono 43 persone, tra le quali donne e bambini. Adesso invece torniamo a Catania. È stato operato alla testa e si trova ricoverato in prognosi riservata. Il centauro è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale al lungomare del capologo Etneo. L'uomo a bordo del suo scooter si è scontrato con un'auto al volante, un 84enne, che stava tentando di fare un'inversione a un non consentita. Sentiamo il servizio di Filippo Romeo. Lotta tra la vita e la morte è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Giovanni D'Angelo, il centauro, 47enne, rimasto ferito ieri sera al lungomare nello scontro tra il suo scooter Piaggio Beverly e questa Fiat Punto. Un'imprudente inversione di marcia dell'utilitaria, secondo la ricostruzione degli agenti della polizia locale, all'origine del drammatico incidente, verificato simbiale Ruggero di Lauria, di fronte al ristorante La Tavernetta, a pochi passi da Piazza Nettuno. Al volante dell'auto, un 84enne, che non curante della doppia linea continua sull'asfalto, uscendo da un parcheggio in direzione Piazza Europa, ha azzardato il cambio di corsia per dirigersi verso Ognina. Un'infrazione, purtroppo, su questa strada molto frequente, effettuata proprio mentre sopraggiungeva lo scooterista, che si è visto improvvisamente sbarrare la strada dal veicolo di colore nero e dunque di sera ancora meno visibile. Lo scontro è stato violentissimo, ecco ciò che resta dello scooter. A terra nessun segno di frenata. D'Angelo, che indossava il casco, ha colpito a velocità con il mezzo a due ruote il veicolo al centro della carreggiata, mandando in frantumi finestrini e facendo esplodere gli airbag. Uno schianto avvenuto davanti a centinaia di persone, che a quell'ora affollavano il lungomare e i locali della zona. Subito sono scattati i soccorsi. Le condizioni del 47enne, rimasto esanime sul selciato in una pozza di sangue, sono apparse subito gravi ai sanitari, giunti a bordo di un'ambulanza. L'uomo è stato intubato sul posto e trasferito d'urgenza in codice rosso al Cannizzaro. L'anziano invece, rimasto illeso ma che pare soffra di problemi al cuore, è stato accompagnato per accertamenti da un familiare all'ospedale Santa Marte e Santa Venere 10 Reale. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Sull'accaduto indaga la Polizia Municipale, intervenuta una squadra dell'infortunistica che fino a tarda sera ha effettuato i rilievi. L'accaduto ha riacceso i riflettori sul problema della sicurezza su questa trafficatissima arteria cittadina. Negli anni decine sono stati i gravi incidenti, molti dei quali mortali. Bisogna presto trovare una soluzione, come è avvenuto di fronte all'Istituto Nautico, prima di Piazza Mancini Battaglia, dove anni fa venne installato lo spartitraffico centrale. E voltiamo pagina, andiamo a Palermo, alla regione siciliana. La relazione di metà mandato del presidente Musumeci, che ha detto che sono stati raggiunti in questi 30 mesi esaltanti ma difficili, importanti obiettivi. Il Covid certamente peserà sul futuro, ma non sono mancate tensioni. di 5 Stelle hanno abbandonato l'aula. Sentiamo tutti i dettagli da Mario Grasso. Si è chiuso con un accorato appello all'unità delle rappresentanze istituzionali e regionali la relazione di metà mandato che nel pomeriggio il presidente della regione Nello Musumeci ha letto in parte all'Ars. Un appello perché si condensi un clima meno avvelenato, aperto al confronto, perché tutto ognuno con le proprie competenze abbiamo il dovere di cambiare questa Sicilia, ha detto il governatore. frase che stride con l'abbandono dell'aula da parte del gruppo del Movimento 5 Stelle che ha così sottolineato il mancato invio della relazione ai gruppi parlamentari prima ancora della seduta. 30 mesi difficili ma esaltanti, ha detto Musumeci, per i risultati raggiunti e per le lacrime dei fatti che hanno segnato quest'epoca e che devono servire per dare corso agli obiettivi di rilancio dell'isola periferica e che sconta la perificità con i centri decisionali e con i centri economici. La distanza dai centri decisionali e produttivi, la distanza dai mercati del Nord Italia e del continente europeo ha accentuato la marginalità della Sicilia, inducendo il sistema isolano a chiudersi in se stesso. Ebbene, noi crediamo che nel nuovo contesto geopolitico del Mediterraneo, che non è più, attenzione, un mare di frontiere tra due mondi divisi e contrapposti, la Sicilia possa tornare ad essere crocevia mercantile e culturale, come aspicavano con ottimismo per Santi Mattarella e Rino Nicolosi. Troppo presto per tentare una prima stima dei danni causati dall'epidemia alla fragile economia della nostra isola. Di certo un macigno ci sarà tempo per le analisi degli esperti ai confronti del prima e del dopo, ha detto il Governatore Musumeci. Ci ha parlato delle riforme realizzate, della situazione finanziaria della Regione, dei 7.746 precari, dell'intesa da 2 miliardi di euro raggiunto con il Ministro Tria. Il mondo agricolo è in ripresa grazie all'accelerazione sulla spesa per i fondi europei. Poi la nota dolente è il sistema dei rifiuti basato in Sicilia su un perverso intreccio tra politica, burocrazia e imprenditoria. Il sistema dei rifiuti in Sicilia è stato costruito e alimentato nel corso degli ultimi decenni per favorire un perverso intreccio tra politica, burocrazia e imprenditoria privata. Perverso perché l'obiettivo finale non era quello di assicurare un servizio di primario interesse pubblico, efficiente e rispettoso delle regole, economico, in linea con le innovazioni tecnologiche e sotto il costante controllo della politica. No, no, non era questo il fine. Si è dato vita ad un pericoloso oligopolio che controlla circa l'80% del trattamento dei rifiuti nell'isola, con la politica assente o perlomeno distratta e qualche volta acquiescente. Con certa burocrazia corrotta che gestiva i processi autorizzativi nell'interesse del privato, il quale in alcuni casi, nella spregiudicatezza della propria condotta, si muoveva con metodi tipici delle organizzazioni mafiose e criminali. Questo disegno perverso è stato reso più agevole dal permanere in Sicilia di un patologico stato emergenziale che si è protatto per oltre 20 anni. Nel campo delle infrastrutture è stata accelerata la spesa pubblica per aprire il maggior numero possibile di cantieri. Quindi la rete ospedaliera è stata avviata in riordino, mentre nei giorni scorsi è stato adottato il decreto di riorganizzazione delle terapie intensive, con un incremento strutturale di posti letto sino a 719 unità. Qui Musumeci ha brevemente elencato i vari interventi assunti per il Covid, ringraziando il personale sanitario, le forze dell'ordine, le forze armate, la protezione civile, tutti i siciliani. Per il segretario regionale del PD Anthony Barbagallo si è trattato di 90 minuti di niente, mentre per Claudio Fava del gruppo misto il Presidente ha parlato con verbi al futuro e furbe omissioni. E torniamo adesso alla cronaca perché i carabinieri del ROS, del comando provinciale di Enna, hanno eseguito una misura cautelare a carico di 46 indagati accusati di associazione di tipo mafiosa, associazione finalizzata al traffico e allo smercio di superfacenti, sostioni corruzione aggravata dall'aver favorito l'associazione mafiosa. A capo del clan, l'ergastolano Raffaele Bevilacqua, avvocato uscito dal carcere per motivi di salute. Adesso a giarre, acrobazie sulla cupola del Duomo ad opera di giovani spericolati. Era già accaduto lo scorso anno, si erano anche registrati dei danni strutturali. Il servizio di Guendagarozzo. Siamo stati un attimino presi da questi espluati, questi due ragazzi che sghignazzavano sul campanile, per questo noi ci siamo voltati ed è stato brutto a vedersi perché è abbastanza pericolosa la cosa. Ma se ne sono accorti i clienti, se ne sono accorti tutti e il loro intento era quello di farsi vedere. Il racconto di chi ieri sera ha visto a giarre i due spericolati che poco dopo la mezzanotte si sono arrampicati sulla cupola del Duomo. Pietro Rossi gestisce un locale proprio qui di fronte, tavolini sulla piazza. Tanta gente ha assistito, il panico per i due che hanno rischiato di precipitare al suolo per una bravata. C'è una scaletta che porta da un piano, chiamiamolo così, fin sul campanile ed è completamente esterna e completamente senza protezione. Un gesto al limite della follia, immortalato in questi scatti e che ricorda un episodio analogo avvenuto un anno fa, quando con le stesse modalità altri due incoscienti dall'esterno avevano dalla campanile calpestato tutte le tegole che conducono alla cupola da poco restaurata. Ho sentito dei rumori questa notte, ma non mi menti una notte, diciamo che dormo stanco di una giornata di lavoro. Ma era già successo nel scorso che due ragazze, che siamo riusciti a beccare attraverso il sacrista che è salito sul campanile, ma si sono dileguate tette e tette, cioè non entrano assolutamente dalla chiesa, si arrampicano dai muri, con pericolo anche per la vita, perché basta, sappiamo cosa accade in queste case, basta un piede così, a parte i danni che fanno sulle tegole. Adesso mi tocca andare con il muratore a vedere se ci sono tegole rotte, perché poi le piogge, l'infettazione dell'acqua. Noi stiamo cercando di risollevare il Duomo, i vari uomini ragno, diaboliche, lasciamola stare ai fumetti. Abbiamo subito la settimana scorsa il furto di una cassetta con le offerte, proprio malgrado la vita, la sorveglianza, l'essere riprese, per fare cose, poche decine di euro, indubbiamente. La presenza di forze dell'ordine avrebbe certamente fatto da deterrente per Giovanni Barbagallo, spettatore di una bravata che sarebbe potuta finire in tragedia. Poteva dare luogo a un incidente e comunque a una tragedia. Vedere dei ragazzi che impunemente, comunque liberamente, si arrampicano sulla cupola del Duomo, a maggior ragione, è stato ancora più evidente, visto che è considerata che è adesso illuminata la cupola. E c'è stato tantissimo sconcerto tra i clienti, tra le persone che erano presenti in Piazza Duomo, vista anche la calura estiva, si esce a Giarra. Questo ci pone davanti a un interrogativo chiaro, che è quello se il sindaco è ancora in grado di mantenere la sicurezza in questa città, se gli interventi dell'amministrazione siano ancora in grado di poter garantire la sicurezza ad ogni cittadino, perché nel centro di Giarra, in una sera qualunque d'estate, che ci siano dei teppisti, chiamiamoli così, pronti non solo ad arrampicarsi, ma anche a poter effettuare delle frazioni all'interno della Chiesa Madre, a poter magari rubare qualcosa, ci spinge a porci tantissimi interrogativi. Da una notizia curiosa ad un'altra, ci spostiamo ancora a Catania, al limousine in Piazza Duomo. È stato multato il proprietario, grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, la polizia municipale è riuscita a risalire al proprietario della limousine che alcuni giorni addietro ha violato la corsia preferenziale di via Vittoria Emanuele, transitando poi su Piazza Duomo, di recente pedonalizzata, rimanendo in sosta per diversi minuti a sollevare il problema. La vicenda era stata la foto dell'auto in bella mostra su Piazza Duomo, pubblicata da una pagina Facebook divenuta in breve tempo virale sui social. È stato appurato che la limousine in questione appartiene ad una società di auto noleggio di Lentini e che l'auto era stata utilizzata per festeggiare un diciottesimo. Da oggi, primo luglio, al Via, all'Iter, le procedure, è possibile beneficiare del bonus vacanze, così come sono partite tantissime altre misure previste dal decreto rilancio. Ma la misura del bonus vacanze sarebbe inutile a sentire il Codacons, che propone ben altro per risollevare il settore turismo. Sentiamo. Scatta oggi e sarà attivo sino al 31-12 il bonus vacanze previsto nel decreto rilancio. I suoi benefici? Un flop, secondo il Codacons, non aiuterà né il turismo né le famiglie e non contribuirà a ridurre la spesa degli italiani che decideranno di andare in villeggiatura quest'estate. Si tratta di fumo negli occhi degli italiani, troppi e stringenti i limiti imposti dal governo. Non potrà infatti essere utilizzato da chi prenota attraverso piattaforme come Booking o Airbnb e verrà solo per chi ha un ISEE inferiore ai 40.000 euro. Si potrà usare solo inoltre all'80% come sconto diretto sulle tariffe e il suo valore scende a 300 euro per un nucleo di due persone e si dimezza a 150 euro per un nucleo con una sola persona. Spiega stamani Carmelo Sardella dell'ufficio affari legali Codacons. Vediamo come per esempio a Taormina solo un hotel su 90 ha beneficiato, ha aderito a questa iniziativa e quindi in Sicilia non riscontriamo da noi nessuna adesione apprezzabile a questo bonus. L'annullamento della possibilità di accedere comunque a mezzi di intermediazione, a Booking o altri meccanismi previsti, entità elettronica e altri meccanismi previsti chiaramente già renderanno nulli benefici. Ma poi bisogna aggiungere che questi aumenti che stiamo subendo a seguito del lockdown in tutte le strutture balneari, negli hotel, strutture turistiche di fatto supereranno di gran lunga gli eventuali potenti benefici di questo bonus. Il Codacons lancia una proposta, un'iniziativa alternativa in aggiunta a questo bonus vacanze che è un'iniziativa ok comune, destinata ai piccoli comuni fino a 5.000 abitanti che prevede degli sconti e agevolazioni aggiuntive a quei comuni che hanno adottato quei protocolli di sicurezza e che è mirato a incentivare il turismo nelle vacanze nelle piccole località. Vacanze ai tempi del coronavirus, intanto nel giorno in cui il segretario generale dell'organizzazione dell'ONU che si occupa di turismo si trova in Italia. Il presidente della regione siciliana Nello Musumeci lancia un appello. Sin da ora rivolgo l'invito alla delegazione di venire in Sicilia. L'esclusione della nostra isola dal programma originario, sono certo, ha spiegato è solo frutto di una svista o dettata dalla ristrettezza di tempo. Non si potrebbe capire l'Italia infatti senza vedere la Sicilia. E verrà inaugurata domani la chiesa di Acireale nella frazione di Fiandaca chiusa sin dal dicembre del 2018 per causa degli effetti del terremoto di Santo Stefano. La cerimonia sarà presieduta da Monsignor Raspanti. In occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie in programma da domani riapre a culto la chiesetta di Fiandaca, una delle frazioni investite del devastante sisma del dicembre del 2018. La piccola comunità a nord di Acireale dal giorno è impegnata nell'organizzazione dell'evento religioso cui prenderà parte anche il vescovo della diocese, Monsignor Antonino Raspanti, che inaugurerà ufficialmente il luogo di culto che era stato chiuso per inagibilità. La forte scossa del terremoto ha staccato allo spesso intonico dall'arco antistante e la volta precipitato sull'altare. Caduta anche la statua del Sacro Cuore dalla nicchia della navata di destra, andata perduta per sempre. restaurata, era stato ingesso dalla venerata Madonna delle Grazie che aveva subito lievi danni. Rimane inagibile la canonica. I lavori di adeguamento e ripristino delle condizioni di sicurezza sono stati finanziati dalle offerte dei fedeli delle diocese di tutta la Sicilia che hanno raccolto i 40.000 euro necessari. Ricostruito l'arco danneggiato e imbiancati gli interni rispettando colori e sfumature. La chiesetta è tornata ad essere agibile. Il parroco, Don San Fernandez, insieme a parrocchiani da giorni, è impegnato nella organizzazione delle celebrazioni, tenendo conto delle restrizioni al diffondersi del Covid. La piazzetta dell'impetto alla chiesetta è utilizzata per le celebrazioni all'aperto, mentre all'interno verranno osservate le distanze fisiche. La chiesa di Fiandaca in passato è stata interessata da altri terremoti, come quello del 1984, che ne compromisa la stabilità, tanto che si pensò di abbatterla e ricostruirla. Ci sono voluti 15 anni per i lavori di consolidamento. La notizia della riapertura della chiesa di Fiandaca è stata accolta con entusiasmo anche dei parrocchiani della vicina frazione di Pennisi, località in cui il terremoto ha completamente sventrato la chiesa, privando la comunità del luogo di culto, raccoglimento e aggregazione. La diocesi di Aceriale sta facendo un gran lavoro per restituire la piena fruizione delle chiese danneggiate del sisma, grazie alle donazioni dei parrocchiani e al fondo accantonato dalla conferenza episcopale italiana tramite l'otto per mille. Dopo 18 mesi del terremoto il Vescovo aprirà la chiesa il 2 luglio e siamo strafelici perché finalmente abbiamo questa chiesa che sarà riaperta per il culto. Tutte e due chiese di queste due frazioni, Pennisi e Fiandaca, erano distrutte, erano chiuse a causa del terremoto. È arrivato il momento di gioire con questa riapertura e festeggiare veramente perché è stata anche la benedizione della Madonna, Santa Maria delle Grazie, la nostra protettrice che ci ha aiutato in questi tempi, in questi mesi che abbiamo vissuto senza chiesa. A Fiandaca, Pino Corazzato rappresenta la memoria storica della borgata e da sempre collabora con i parrocchi che si sono succeduti negli ultimi 30 anni nell'organizzazione degli eventi religiosi. Da un po' di tempo a questa parte seguo tutte le vicende della parrocchia e quindi so l'iter che ci è voluto. Ora i tempi sono stati brevissimi, come ha detto Patersemi, ma ricordo che il terremoto dell'84, la chiesa è stata distrutta, si parlava addirittura di fare un progetto nuovo e farla di nuovo. Poi fortunatamente si è potuta restaurare la chiesa. Ma mentre ora ci sono voluti 18 mesi, allora ci sono voluti 15 anni. Quindi sono stati 15 anni di disagi per noi, per dire le funzioni, non avevamo nessun luogo alternativo, sennò l'asilo che qua c'è di fronte, c'è un asilo, allora quell'asilo non era chiuso e quindi abbiamo sfruttato quello. Poi in estate facevamo le funzioni in quella piazza, facevamo una copertura, non so se mi spiego, fare una copertura con la legna eccetera, era un gran lavoro perché la festa non si poteva fare sotto il sole. E quindi ora noi siamo felici che i tempi sono stati brevi. Ci spostiamo adesso ad Acci Catena. L'amministrazione comunale apre al mercato serale una volta a settimana, ma allora sentiamo i dettagli e cosa dovranno fare i commercianti per aderire. L'amministrazione comunale a 10 catene intende estendere le ore salari il mercatino settimanale e apre ai piccoli artigiani tutti i venerdì a partire dal prossimo 17 luglio e sino al 7 agosto dalle ore 18 a mezzanotte in forma per il momento solo sperimentale. L'idea è quella di coniugare gli eventi estivi con la possibilità di fare acquisti nell'area mercatale frequentatissima dai catenoti e non solo. La domanda può essere scaricata dal sito internet del comune o ritratta presso l'ufficio commercio entro e non oltre il prossimo 8 luglio avranno priorità gli operatori che già occupano gli stalli settimanali. L'assessore al commercio Emilia Grimaldi non esclude di estendere la vendita specie di prodotti dell'artigianato locale presso la scalinata antistante il palazzo comunale rilanciando così il settore artigianale che conta decine di piccole attività desiderose di ritagliarsi uno spazio per la vendita delle mercanzie in prevalenza oggetti confezionati manualmente dai costi contenuti. L'area mercatale 10 catena centro da sempre rappresenta un punto di incontro per i catenoti. Un centinaio i banchetti allestiti mercoledì nell'area riservata ognuno con le proprie specificità merceologiche dalla variegata offerta alimentare all'abbigliamento. Ampliare la proposta con l'istituzione di un mercato serale nella giornata di venerdì è il progetto dell'amministrazione che intende sostenere il settore dopo la crisi scaturita dalla pandemia da coronavirus. Quest'anno vogliamo portare una novità, una novità che in realtà era nata nel mese di gennaio perché di comune accordo con il sindaco abbiamo pensato in previsione dell'estate di portare la fiera estiva quindi in via sperimentale di dedicare quattro serate dal 17 luglio al 7 agosto dalle 18 alle 24 per fare in modo che gli artigiani e commercianti diciamo dare una spinta in più, dare un aiuto dopo il covid per farli riprendere un attimino a lavorare quindi a lavorare un po' di più ma nel contempo anche per agliatare le serate catenote visto che questa iniziativa del mercato si va a sposare con l'iniziativa dello spettacolo. Noi settimana scorsa abbiamo aperto anche una manifestazione di interesse per chiunque volesse partecipare, fare qualcosa nel territorio catenoto e l'amministrazione si fa diciamo da una spalla, una mano d'aiuto nell'organizzazione degli eventi. Quindi le due manifestazioni si vanno a sposare insieme e così cerchiamo di portare un po' di allegria, un po' di colore in questa città che da qualche tempo è un po' spenta. È una fase sperimentale diciamo, più adesioni ci sta in base alle adesioni si potrà immaginare di realizzare appunto un mercatino il venerdì la sera? Il venerdì sera sì, a partire dal 17 luglio sì, è in via sperimentale, è una novità, non l'avevamo mai fatto quindi diciamo è tutto un punto interrogativo però noi contiamo di fare dei mercatini sia agli operatori del mercato sia per i mercatini artigianali. Quindi chiunque possiede diciamo delle attività artigianali e li vuole esporre qui da noi noi siamo ben lieti di ospitarli. Ed ora gli eventi estivi ad Acci Bonaccorsi che prenderanno il via proprio nei prossimi giorni e si protrarranno per i mesi di luglio ed agosto. Sentiamo. Ad Acci Bonaccorsi l'amministrazione comunale allestisce il cartellone estivo per i mesi di luglio ed agosto nonostante le restrizioni in corso del post-covid sfruttando gli spazi all'aperto di cui dispone con una serie di appuntamenti di spessore. Palazzo Cutore, antica dimora nobiliare, farà da proscenio gli eventi più importanti tra cinema, teatro e cabaret. Si parte sabato prossimo con lo spettacolo di Giuseppe Castiglia, mattatore della serata di avvio della bella stagione bonaccorsese aperta esclusivamente ai residenti. Lo scopo, afferma il sindaco Vito Di Mauro, è quello di restituire gli spazi ai bonaccorsesi dopo il lungo stop da lockdown tenendo conto delle norme di contrasto possibile diffondersi del covid-19 in vigore. Il cinema arena, sempre nel cortile di Palazzo Cutore, sarà l'altro appuntamento da sempre centro degli interessi di centinaia di visitatori ad ingresso agevolato. I posti a sedere disponibili passano da 800 a 500 per effetto delle restrizioni. Controlli con i termoscanner all'ingresso e sedie distanziate eccetto per i nuclei familiari. Nulla è lasciato al caso, afferma l'assessore a turismo e spettacolo, Alfio Alcifa, e gli sforzi per rendere meno tortuoso l'accesso del pubblico nell'aria sono la nostra priorità. Nei due mesi di eventi estivi, calendarizzati, spettacoli musicali senza amplificazione e la ristorazione all'aperto con la trasformazione di Piazza Bellini in area food, curata dai restauratori e titolari di ritrovi locali, incoraggiati dal successo dell'anno scorso che ha visto la partecipazione di migliaia di persone. Dubbi sul Festival dei Fuochi d'Artificio, da decenni uno degli attrattori principali del Paese. In programma il 2 agosto è un'occasione dei festeggiamenti in onore di Santo Stefano, il primo cittadino di Mauro, si dice comunque fiducioso. L'estate ad Aci Buonaccorsi ha avuto una crescita esponenziale di visitatori e di frequentatori e noi non vogliamo interrompere questo trend positivo con quest'anno. Infatti stiamo organizzando un'estate sempre all'altezza della tradizione di Aci Buonaccorsi prevedendo degli spettacoli a Palazzo Cutore che sarà la sede principale dove si alterneranno il cinema, gli spettacoli teatrali, di musica e quant'altro. E poi anche fuori vogliamo riprendere quella bellissima tradizione all'anno scorso dei venerdì in Piazza Bellini dove gli artigiani locali si sono alternati insieme alla musica per creare un ristorante virtuale in piazza e quest'anno verrà nuovamente rifatto naturalmente osservando il distanziamento che ci impone la legge e poi avremo altre novità, la musica dal vivo fatta senza amplificazione per non disturbare che creerà attorno alla nostra isola pedonale, all'interno della nostra isola pedonale, un gioioso atmosfera che spero tante persone vorranno apprezzare. Ci può accorsi che è anche e soprattutto festival dei fuochi d'artificio, ma appunto in tempi di Covid come ci si organizza e se si farà il festival? Sì, sarà questa una cosa un po' più complicata, ci aspettiamo da parte del governo delle novità, noi abbiamo sempre la predisposizione e la voglia di fare le cose e però dobbiamo anche osservare quello che sono le prescrizioni della legge, se intervenranno fatti nuovi, nel senso che verrà liberalizzata la possibilità di poter fare degli spettacoli pirotecnici, Aci Bonaccorsi risponderà sempre presente all'appello. Con Alfio Arcifas è solo allo spettacolo, visitiamo il cortile di Palazzo Cutore per gli ultimi accorgimenti prima del bio ufficiale di sabato prossimo dell'estate, Bonaccorsese. Si stiamo organizzando nel migliorare dei modi per affrontare proprio questa situazione del Covid che purtroppo ha ristretto la platea di pubblico da 800 posti, 810 posti a 500 posti, però Aci Bonaccorsi non si può affermare, Aci Bonaccorsi deve andare avanti con gli spettacoli di ogni estate, la soggione estiva che c'è sempre costante distinto nella provincia di Catania, abbiamo un cartellone di tutto rispetto, sempre purtroppo con il discorso del Covid quindi siamo molto ristretti, luglio è tutto pronto e agosto c'è molto materiale in cantiere, siamo così agli sgoccioli ma c'è molto materiale in cantiere ancora da definire e ci sarà qualche sorpresa. Adesso a Catania per parlare del servizio rifiuti, la proposta di una gestione in house viene da alcuni consiglieri della maggioranza ed è stata illustrata oggi alla stampa. Una mozione per l'affidamento del servizio di gestione della raccolta dei rifiuti e spazzamento in house tramite un'apposita società partecipata della Comune, quale unico socio? E' stata firmata da tre consiglieri comunali etnei con l'obiettivo di migliorare il servizio anche nell'ottica di un maggior rispetto del cittadino. I particolari sono stati illustrati stamattina nel corso di una conferenza stampa utile a chiarire i punti sostanziali contenuti dalla mozione stessa. La mozione nasce per fare un passo, una svolta, diciamo a portare una svolta e un cambio di passo nel servizio di gestione della raccolta dei rifiuti. Reputiamo che con l'affidamento all'esterno questo servizio non venga espletato nel migliore dei modi e ciò comporta dei costi notevoli e lo sappiamo perché poi l'imposta tari è molto alta. Mentre con l'affidamento in house reputiamo che si possono risolvere tante criticità, si possono aumentare i livelli di differenziata e quindi si possono abbattere anche i costi. Con un'esperienza ovviamente virtuosa, una governance competente, crediamo che si possa poi, magari scenderemo nello specifico durante il dibattito in aula, ma la nostra è una proposta di indirizzo politico rivolta all'amministrazione e laddove possa in sede di SRR, quindi di società d'ambito, mettere sul tavolo anche questa proposta. Quindi eliminare questo meccanismo dell'affidamento esterno ma iniziare un percorso secondo noi migliorativo sicuramente di questo servizio. Un servizio migliore per i cittadini? Il servizio di raccolta dei rifiuti infatti è uno dei biglietti da visita della città insieme alla sicurezza, insieme alle manutenzioni. Ad oggi lo stato spesso delle strade è poco dignitoso per quanto riguarda il servizio di rifiuti e questo incide nella qualità della vita dei nostri cittadini e anche per quanto riguarda le imprese commerciali, le imprese che operano nel settore turistico anche come immagine della città nel mondo rispetto quindi a tutti i turisti che vengono a visitarla e che si ritrovano in fronte a questi cumuli di rifiuti. La seconda direzione in cui va quest'ordine del giorno è quella della raccolta differenziata insieme a uno sconto importante sull'Atari. Catania è una delle città con il più alto costo della tassa dei rifiuti a fronte di un servizio che ad oggi è deficitario. Noi vogliamo invece un servizio migliore con un costo minore e questo è possibile se l'amministrazione è da seguito a una proposta come la nostra. Se una volta per tutti viene effettuato da una società controllata dallo stesso comune potrebbe essere un servizio molto omogeneo per la stessa cittadinanza e come dice il collega voglio dire servizio omogeneo pagare di meno tutti i cittadini che effettivamente fino ad oggi le tassi sono le più elevate di tutta Italia. Ed ora l'aggiornamento che riguarda in particolare la Sicilia sull'emergenza coronavirus, aggiornamento di questo pomeriggio sui dati che nell'isola restano stabili. Nelle ultime 24 ore solo un nuovo caso di contagio su 2.425 tamponi effettuati e nessun decesso. Gli attuali positivi nell'isola sono 126 di cui 21 ricoverati in ospedale di quali soltanto 3 in terapia intensiva. Adesso ci fermiamo, pausa pubblicitaria tra poco. Non ci sono aggiornamenti, ci fermiamo qui dunque per questa edizione serale di Ora Tg. Grazie di averci seguiti, come sempre vi lascio al meteo e vi auguro una buona serata. Queste le previsioni del tempo di giovedì 2 luglio in Sicilia, giornata particolarmente calda e soleggiata, quella di domani sull'intero territorio regionale. I venti saranno deboli dai quadranti settendrionali al mattino o dai quadranti meridionali al pomeriggio. Mari, quasi calmo, lo ionio, poco mosso, il terreno a tratto mosso nel pomeriggio, il canale di Sicilia. Le temperature. Un ulteriore aumento ovunque nell'isola con massime che nelle aree interne e nella parte siracusano oscilleranno tra i 37 e i 39 gradi con punte massime prossime ai 40. Sulla piana di Catania pressoché stazionari o in lieve calo le minime. Grazie a tutti.